Niki Giusino, il disrubatore televisivo per attromasi a www.niki-giusino.it Oggi 9 gennaio 2016, giornata tanto attesa, rinizia, c'è posta per te Quindi torna questa sera su canale 5, amici, c'è posta per te Il people show ideato e condotto dalla bellissima e strappigliante, stupefacente, altissima, biondissima Maria De Filippi E per la prima puntata, come ogni puntata ci saranno persone famose Ma questa prima puntata di sabato 9 gennaio 2016 ci saranno tre personaggi molto famosi della sua app Il Segreto e Marco Mengoni Quindi mi raccomando, ore 21.10, sintonizzatevi sul canale 5 perché ci sarà da piangere, da commuoversi, come sempre NikiGiusino.it